Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qua con la mia migliore amica Bianca e ha anche un canale quindi iscrivetevi e dopo si chiama Bianca Minauta e oggi faremo la seconda parte della secchiata challenge la prima parte è stata caricata sul mio canale andate a vedere sì quindi vabbè ormai penso che saprete in che cosa consiste vabbè ve lo rispiego cioè dovete fare 6 domande e se qualcuno sbaglia gli tirate una secchiata d'acqua noi utilizzeremo questi contenitori non sarebbe così in pratica sarebbe di iniziare di fare 6 contenitori dal più grande al più piccolo però noi non li avevamo e avevamo questi comunque nella prima parte abbiamo fatto che lei faceva le domande a me quindi adesso io mi piace di più la piscina o il mare la piscina brava mi piace di più la piscina perché sembra pulita infatti la possiamo trovare ciao vai c'è un angora ok quindi la prima secchiata è stata fatta vabbè ok la seconda domanda mi piace di più il tiramisù qual è il mio dolce preferito anzi i bignè la torta al gelato oppure il bignè al cioccolato ha detto bignè al cioccolato nel senso dolce nel senso le rollo con la cioccolata ok il senso al posto di bignè sono tipo le torte rotonde con il cioccolato e bignè al cioccolato no e allora la testa gelato no manco va bene la cosa rollo con il cioccolato saluta la telecamera ciao oddio no no non ti preoccupare non è resistente all'acqua ma non ti preoccupare basta che non si può entrare nella telecamera o nel telefono è a posto eh terza domanda che non si rompiamo qualche tu eh eh terza domanda terza domanda secondo no non si può mettere pausa non si può comunque è smacellato in che senso perché come a che villa e diceva lo zoom vabbè non fa niente vabbè va e ok allora la terza domanda è mi piace di più il mare o la montagna penso la montagna è sbagliata è sbagliata il mare come prima mi hai detto la piscina vabbè però non mi piace andare molto a me terza secchiata eh secondo secchiata per il piera ciao che bella oh che bella ok la quarta secchiata poi diremo a chi andrà ti sta rompendo cacchio vabbè no vabbè voi la giustiamo la quarta domanda è mi piacciono le vacanze o no direi sì o no direi di sì lunghe o corte penso lunghe lunghe secondo te in che senso tipo un mese un po di più allora hai sbagliato due mesi un mese e mezzo hai sbagliato allora perché cioè quando io ho fatto la vacanza per un mese ma io intendo vacanze queste poi non lo so quale dici tu vacanze ma non oltre che tutte le vacanze durano un mese già a me mi scoccia nel senso allora le vacanze vabbè hai detto vacanze lunghe già sì direi ma non ti piace questa vacanza ti piacerebbe se ci fosse scuola ora ma nel senso vacanze partire eh io avevo capito vacanze vabbè quanta? in testa oddio la telecamera si sta rompendo la telecamera ok vai veloce allora poi sto durando un sacco 5 minuti anche quello la quinta domanda è mi piacciono le scarpe da ginnastica o le scarpe col tacco? direi scarpe ma che senso dove dovresti andare scusa? nel senso non generale ma le scarpe col tacco non le usi mai perciò? perciò? perciò beh io ne ho un po' due paia col tacco penso che ti piacciono quelle con il tacco beh non lo so veramente non lo so devi decidere quelle col tacco che sono le mie preferite? sì quelle di danza quelle di danza ma quelle di danza non ti piacciono? mi piacciono di più le scarpe da ginnastica le gomme e che manco le usi mai sì me le porto sempre l'altro giorno pure sono andata col vestito e le scarpe da ginnastica vestito wow bella bianca ci stanno ormai la moda siamo alla a me la mia però mi porta fortuna fortuna ce n'è ancora? no quindi questa è l'ultima la domanda per fortuna perchè si sta rompendo allora mi piacciono di più i phone o i samsung? secondo me allora cioè questa è a parte la cosa i potessi allora tu pensi sempre male dei samsung? come dici perchè si rompono e non possono andare sott'acqua vabbè c'è quello che può andare sott'acqua però non mi piacciono cioè ah! già l'hai detto vabbè ti piacciono i samsung? vabbè sbagliata vabbè comunque tu andavi per gli iphone in pratica nel senso tu stavi dicendo che mi piacciono più gli iphone non direi infatti sembrava che era finita così brisa ok e ci vediamo al prossimo video ciao e ciao è finita finalmente aspetta ciao